Per la seconda volta un IMC si è rivolta all'ingegno degli studenti del laboratorio sulla comunicazione di Ateneo. Quest'anno l'immagine promozionale porta la firma d'autore di Paolo Monina, artista anconetano, docente a contratto alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Ci interessa ciò che ti fa muovere, dice l'Università di Macerata, l'umanesimo che innova. L'idea di questa impostazione, spiega Monina, è maturata da una mia osservazione della società attuale. Ho cercato di immedesimarmi negli studenti per capire le loro problematiche e la loro idea del futuro. E la mia conclusione è stata che il futuro non esiste, che credere nel futuro significa credere in se stessi, basandosi non su promesse, ma sulle proprie convinzioni. I ragazzi hanno lavorato all'ideazione degli slogan, alla selezione e alla post-produzione delle immagini, alla ripresa del backstage attraverso foto e video. Grazie a tutti!